Una rete di Crivello, consente al Frosinone di uscire indenne dalla Rechi. Matteo Ciofani, difensore in forza ai Ciociari, ha analizzato così, ai microfoni di telecolore, il pareggio con la Salernitana. Oggi abbiamo fatto la partita nel primo tempo, ma ci è mancata la zampata. Dopo il gol e l'espulsione abbiamo reagito alla grande, e abbiamo portato a casa un buon risultato. Il campionato. C'è massimo equilibrio, è un po' pazza questa Serie B? Tutti possono agguantare la vetta nel giro di 2 marzo partite. Il nostro momento? Non stiamo attraversando un gran periodo, ma anche le altre non stanno facendo meglio, siamo ancora aggrappati alle prime posizioni, e questo ci fa ben sperare.